Oggi è ad Agropoli la festa dei Santi Patroni Pietro e Paolo, un appuntamento importantissimo, un appuntamento di grande prestigio per la città di Agropoli e per tutto il Cilento. Noi seguiremo la processione che si svolgerà dopo la Messa delle 19 celebrata dal nuovo Vescovo Monsignor Calvosa, Don Vincenzo, che si svolgerà per le vie della città. In che modo? Sul canale YouTube di Sergio Vessicchio e mio, sulla pagina Agropoli News. Non sarà una diretta, ma sarà una diretta registrata. Vedrete le immagini scaglionate in appositi video di massimo 5 minuti, che saranno appunto sia sul canale YouTube sia sulla pagina di Agropoli News e vi invito naturalmente ad iscrivervi sia sul canale YouTube sia sulla pagina Agropoli News. Quindi seguiremo così la processione dei Santi Pietro e Paolo, ripeto un appuntamento molto importante, un appuntamento molto atteso, un appuntamento che la città di Agropoli aspetta con grande importanza. Quindi pagina Facebook di Agropoli News e il canale YouTube di Sergio Vessicchio. Grazie a tutti quanti voi e l'appuntamento naturalmente rinnovato per la processione dei Santi Patroni di Agropoli.